Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Siamo vaccinati di grombi, quindi ribadisco il concorso per vincere 10 euro. Siamo in una scola di grombi, quindi la scola di grombi, quindi la scola di grombi, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono le 13 Abbiamo impiegato per arrivare qui Lo smodo in terzo del vino Prego signori potete rinassaggiare il nostro appuntamento gastronomico E' un'altra appuntamento gastronomico Faremo una pasta con la carina di castagne E ricordiamo tutti i nostri ospiti che venivano questi giorni in una casa E' un'altra appuntamento gastronomico E' un'altra appuntamento gastronomico E' un'altra appuntamento gastropole ok era quello di tornare indietro Invece farò questo passaggio, l'uomo mare, le manche, poi dai lì andrò a tagliarla. Per arrivare poi andrò, quindi taglierò la manche, l'uomo di ortigia. E' un po' più bello, è un po' più bello, è un po' bellissimo piano. E' un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello, è un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello, è un po' più bello, è un po' più bello. E' un po' più bello. E' un po' più bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.